Ok, Lady Sanchez, è arrivato il momento di tornare alle origini. Ok, usiamo questo strumento che arriva dal Mississippi. No, l'ho comprato da Amazon. Però va bene, si chiama Washboard, ma come mi insegnano i miei amici del Machine Shop Antonicelli, si chiama in Pugliese a Chiangaraz, quindi suoneremo per voi questi strumenti poveri, tipo la Chiangaraz. Ok. Grazie. 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 Grazie per la visione! Grazie a tutti!